Allora, giovani amici di Facebook, torniamo anche oggi a spacchettare un piccolo accessorio questo era in offerta lampo ieri su Amazon ve l'abbiamo segnalato sulla pagina Facebook e ho visto che in molti hanno gradito per cui ce ne siamo comprati uno anche noi e ve lo facciamo vedere oggi in questo unboxing ieri era in offerta lampo a 12€, oggi ne costa 15€ non è che costi molto di più per cui siete assolutamente ancora in tempo a comprarlo se vi interessava di cosa parliamo? Parliamo di un caricatore da muro tra virgolette, praticamente ha una classica spina da collegare al muro e poi questo finisce sul tavolo, sul comodino, sulla scrivania ecc ed è molto comodo perché abbiamo sempre più device da caricare e quindi è comodo avere un caricatore di questo tipo che oltretutto ha anche il porta device mentre si sta caricando ne ho uno simile a casa, è davvero super comodo sono curioso di vedere anche questo se è altrettanto comodo e se rispecchia i dati indicati dal produttore che è questa Ugreen, Ugreen, More4U il solito produttore cinese del caso vado a spacchettare con il mio fidato coltellinen la confezione è ormai classica per i China tutte queste marche hanno queste confezioni in cartoncino riciclato in questo caso c'è anche una sovra confezione stampata a colori che riporta sul fronte la foto dell'oggetto e sul retro un po' di caratteristiche tecniche e leggevo nei commenti che su Amazon c'è una foto o comunque una delle cose dette è che dovrebbe fare anche la ricarica veloce sui nuovi smartphone abilitati secondo me no perché qui Power Output mi dice c'è scritto che massimo 5V chiaramente 4A in tutto e sulla singola porta parla di 2,1A per i tablet e quindi c'è una porta da 2,1A e due porte da 1A per gli smartphone che poi insomma si può collegare alla porta da 2,1A anche uno smartphone non è che è vietato quindi andiamo subito a vedere dentro che cosa c'è quindi questo per dire che secondo me questo caricatore non supporta la ricarica veloce di Samsung o di LG all'interno chiaramente troviamo l'oggetto in questione qui impacchettato dentro un po' di plastica non è enorme ma neanche piccolissimo con le tre porte sono indicate tra l'altro 5V 1A, 5V 1A, 5V 2A, 5V 2A e 1A più un tasto di diciamo immagino tra virgolette accensione del caricatore e poi dopo qui sotto chiaramente metto il cavo per collegarlo al muro ok ho collegato quindi questo cavo bianco direttamente a una presa elettrica poi finisce qui il cavo non è super lungo è un metro e mezzo non è neanche cortissimo di positivo c'è che comunque ha il classico attacco ve lo faccio vedere da alimentazione che magari avete altri cavi simili a casa più lunghi se vi serve oppure ve ne potete procurare anche uno più lungo nel caso vi serva più lungo comunque un metro e mezzo non è pochissimo qui sul fronte c'è il porta device mentre è diciamo in ricarica le tre porte come vi ho detto e il tasto di accensione che vado a spingere si accende un led blu che vedete qui l'oggetto in sé mi sembra ok chiaramente può ospitare sia un telefono che un tablet mentre è in ricarica quello che facciamo subito è andare a verificare l'amperaggio delle porte allora cominciamo con questa da 2,1 ampere ok e proviamo a collegare per esempio uno smartphone uno smartphone in questo caso un Nexus 5X arriva e vediamo a quanto si sta ricaricando allora qui mi segnala un ampere anche sulla porta da 2 ampere 1 questo è un classico ormai a cui siamo abituati questi caricatori sono sempre dichiarati ad altissimo amperaggio però io anche cambiando cavi quello che vedo è che bene o male stanno tutti attorno all'ampere vedete 0,98 1,0,1 provo a cambiare porta a mettere in quelle da 1 ampere e immagino che non cambia un bel nulla infatti 1,04 1,1,13 diciamo che sta attorno all'1 ampere sempre 5 volt ovviamente quindi io non vedo differenze magari anche il cavo in questo caso però non vedo differenze tra la porta da 2,1 ampere che dovrebbe essere quest'ultima qua e quella da 1 ampere provo per sicurezza anche a cambiare sia device che cavo quindi in questo caso invece collego un tablet un Nexus 9 con un cavo micro USB diverso vediamo se cambia qualcosa come vedete rimane ancora sull'ampere un ampere 2 sta un po' salendo forse un pochino meglio un ampere 2 provo a cambiare cavo sempre per sicurezza chiaramente queste prestazioni cambiano sia in base al caricatore che in base al cavo quindi come saprete ormai non tutti i cavi sono uguali assolutamente se volete la ricarica più veloce in assoluto dovete procurarvi un cavo decente ecco che con questo cavo per esempio sale fino a un ampere 42 ho svariati i cavi qui in redazione potrei anche provarli tutti ma vi dico già che rimarrà sempre tra un ampere e un ampere e mezzo i due ampere e uno dichiarati io non li ho visti con nessun cavo o magari ho tutti i cavi di merda io può anche darsi però fatto sta che anche i cavi che avrete voi probabilmente a casa sono più o meno della qualità che sto utilizzando io quindi non aspettatevi la ricarica super veloce ma non è neanche in realtà una delle feature più interessanti di questo aggeggio perché questa è proprio la classica roba che si lascia come dicevo sulla scrivania o sul comodino per mettere in ricarica durante la notte il device di turno quindi si può appoggiare lì e lui rimane lì bello comodo sia che sia un tablet come in questo caso sia che sia magari uno smartphone come in quest'altro caso per cui lo mettete lì chiaramente collegato magari con un cavo anche più corto che più lungo è più scomodo è in questo caso perché appunto come dicevo questo è un accessorio fatto proprio apposta per essere lasciato sulla scrivania sul comodino in salotto all'ingresso in casa eccetera cioè in posti diciamo strategici in cui depositare il device mentre si sta ricaricando si può mettere in varie posizioni chiaramente risulta effettivamente molto comodo magari con un cavo più corto di quello che sto utilizzando io è un aggeggio relativamente economico come dicevo costa 15€ è disponibile sia in bianco che in nero offre tre porte usb dichiarate da 2A1 1A e 1A, abbiamo visto che bene o male comunque rimangono su 1A e 1A 1A e mezzo, forse arriva a 2A con qualche cavo speciale ha questo comodo alloggio come dicevo è disponibile in bianco e in nero se vi interessa, se vi serviva una cosa del genere trovate il link per acquistarlo su Amazon qui sotto o qui a destra in base a dove state guardando questo video se vi è piaciuto il video fate like, fate share e ci vediamo al prossimo Incaut Unboxing con la prossima minchiata da comprare ciao ragazzi